Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Un basso campo di alta pressione è attualmente stazionario sulla Gran Bretagna e ciò sta favorendo tempo stabile su tutto il centro Europa. Sul suo bordo orientale scorre ancora aria fredda dai Balcani, che in queste ore sta interessando i settori adriatici, per cui avremo in generale sull'Italia un tempo stabile ma allo stesso tempo in un contesto invernale. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 3 dicembre. Freddo al mattino lungo le valli della Lucania e sulle aree interne pugliesi. Dalla grafica è evidente che la giornata trascorrerà con cieli soleggiati o poco nuvolosi su quasi tutti i settori. Durante il pomeriggio, solo sul Potentino e zone costiere adriatiche, potranno verificarsi brevi piovaschi. Temperature, come vediamo dalla grafica, stazionale, nei valori minimi, in leggero rialzo alle massime. Venti deboli ovunque dai quadranti orientali, per quanto riguarda i mari invece risulteranno calmi o poco mossi. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gianni De Marco, che ci regala questo suggestivo fenomeno meteorologico scattato nei pressi di Castrovillari, in Calabria, ai piedi del Pollino. Notiamo come le nubi si vanno addensando sulla cima a causa dell'elevata differenza di quota che la massa d'aria fredda è costretta a superare. Durante la risalita si ha un forte aumento di umidità che condensa sotto forma di dense nuvole. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.